Il mondo visto da chi fa una dieta bilanciata e il mondo visto da chi non ha mai visto una bilancia. Il mondo visto da chi non ha mai visto una bilanciata e il mondo visto da chi non ha mai visto una bilanciata. Il mondo visto da chi non ha mai visto una bilanciata. Il mondo visto da chi non ha mai visto una bilanciata.